Ragazzi mi giuro mi sta venendo da piangere, io non so cosa dire, ho registrato il video dove vado a reagire alla tv royale Ragazzi è stato intanto, vi dico già prima di cominciare che è stato l'aggiornamento più bello che abbia mai visto di Clash Royale in assoluto Ragazzi ho registrato il video con la mia reazione assurda, tra l'altro vi faccio vedere uno spezione perché merita La mia reazione è stata questa E quindi praticamente ragazzi cosa è successo? Ho perso la registrazione o meglio ce l'ho ma è senza audio Quindi io praticamente tutto il video sarei senza audio, quindi io dovrei pubblicare un video senza audio Allora io non sono infame quindi vi faccio comunque il video ragazzi, vado insieme a voi a riguardare di nuovo il video Ma non solo, ve lo dico anche che ho già registrato il video e che ho già fatto la reazione perché potrei fare di nuovo il monaco Dio, oddio cos'è, è incredibile, però non lo faccio perché mi viene proprio, mi urta il cuore dover fare i video fake Quindi ragazzi apprezzate questo video del fatto che, apprezzate questa cosa che vi ammetto che il video l'avevo già fatto E però purtroppo ragazzi è finita male Andiamo a vedere che cosa hanno aggiunto perché veramente ragazzi è qualcosa di incredibile È arrivato l'aggiornamento più grosso dell'anno, due nuove carte Vi metto l'altra schermata perché merita, vederlo a schermo intero Ok ragazzi siamo a schermo intero, godetevi il video perché veramente Allora già abbiamo visto due nuove carte Allora attenzione Nuova modalità di gioco Nuova modalità di gioco Altre novità Potete giocare prima con i campioni Eccoci qua, Max e Drew Nuova schermata iniziale ragazzi, attenzione Guardate qui, praticamente potete andare a cambiare la modalità E cambiare di conseguenza anche la schermata Ma adesso lo vediamo tutto con calma Guardate qui ragazzi Qualcosa che non si era mai visto prima Ora il cammino dei trofei offre sfide più casual per vincere premi e trofei E avete visto Arrivando in Arena 17 Abbiamo la possibilità di sbloccare due campioni Ma non solo, già arrivando nell'Arena 16 Andiamo avanti Percorso delle leggende Nuova modalità classificata Adatto a chi vuole giocare a Royale in maniera più competitiva Al riloggiungimento dei 5000 trofei si potrà giocare Livello RE30 Vincere premi ritirabili una volta sola Cambiano ad ogni stagione Ha dei gradini di pietra e di oro Quelli di pietra si rompono Quelli d'oro no Ok Ricompense esclusive ragazzi Ecco E qui ragazzi arriviamo a forse uno dei punti più interessanti dell'update Quindi già abbiamo visto una cosa molto figa Ovvero la possibilità di giocare in maniera più competitiva Quindi come per esempio su Fortnite Vi faccio l'esempio stupido Potete giocare la modalità Battle Royale Ma potete giocare anche la modalità Arena Se volete essere dei player più competitivi E giocare con player sicuramente di un livello più alto Con cui appunto sfidarvi E raggiungere soprattutto dei rank alti E ritirare dei premi molto molto interessanti Il cammino di trofei diventa più lungo 20 arene diverse ragazzi Dragon Spa Eccoci qua ragazzi Qui hanno spoilerato un'altra cosa incredibile E io lì stavo già volando ragazzi La mia reazione l'avete vista prima Era appunto la reazione in cui appunto reagivo a questa cosa qui Adesso ragazzi L'Arena leggendaria si è spostata a 7500 trofei Eccola qui L'Arena 20 Cosa significa questo? Significa che ora Potremmo continuare a rincare trofei Senza perdere i trofei Cosa significa? Che Se prima raggiungevamo l'Arena 15 E al raggiungimento dell'Arena 15 Sapevamo che eravamo arrivati all'Arena leggendaria E di conseguenza non c'erano più arene da sbloccare Automaticamente ragazzi iniziava anche il reset stagionale Ciò significa che al termine della stagione I trofei si resettavano A metà Rispetto a quelli che avevate Prima della fine della stagione Adesso ragazzi Non sarà più così O meglio Sarà ancora così Ma non più a 5000 trofei Bensì a 7500 Quindi se prima ragazzi Per noi era incredibile Vedere un player A 7500 Perché era veramente Tanto alto Ragazzi adesso 7500 Non dico che diventerà la normalità Ma Comunque sarà molto più fattibile Arrivarci Perché adesso ragazzi Una volta che noi scaleremo Di Arena Non vi verranno resettati i trofei Entro una certa soglia Quindi noi potremo Arrivare in Arena 20 Senza problemi E qui si torna A rancare Come due anni fa Per tryhardare E arrivare in Arena Leggendaria Ragazzi Io non vedo l'ora Penso che Oddio Non so se faremo live Però ragazzi Ci becchiamo assolutamente In qualche video Nel caso Perché Dobbiamo assolutamente Continuare assieme Questa Rankata Tattica su Royal Mio dio Mi sta tornando l'hype Ok Ricompense Lo sblocco di cammino Di trofei I campioni Eccoci qua ragazzi Altra cosa incredibile E anche lì sono saltato Dalla sedia Ora i campioni Si possono sbloccare Al raggiungimento Dell'Arena 16 Dell'Arena 17 Dell'Arena 18 L'Arena 16 Vi permetterà di sbloccare Il Cavaliere d'Oro E il Re degli Scheletri L'Arena 17 Vi permetterà di sbloccare La Regina degli Arcieri E il Minatore Colossale L'Arena 18 Vi permetterà di sbloccare Il nuovo campione Che andremo a vedere Tra un attimo L'Arena è dedicata Infatti Proprio a lui Eccolo lì ragazzi Il tasto party Come faccio a giocare Ancora le 2v2 Cliccate sulle tre freccette E andate su party E lì potete giocare Le 2v2 Tranquillamente Quindi non c'è problema Ragazzi Nuove carte Quella La cosa forse più attesa Della Dell'update Anche se non è la cosa più bella Secondo me Nuova Fenice Attenzione Vediamo innanzitutto Il nuovo campione Che ragazzi È stato spoilerato Moltissimo Da Clash Mini Sicuramente Chi ci ha giocato Almeno una volta Saprà di cosa sto parlando Monk Ebbene Monk ragazzi Ecco Silent Sanctuary L'Arena Quanto è forte Guardate la torre Guardate la torre Pam 400 di danno Pensive Protection Esatto ragazzi Potete proteggere Il vostro campione Rispedendo indietro Le carte Che la persona Vi lancia C'è qualcosa Di incredibile Guardate L'avversario Vi lancia Qualsiasi carta Gliela rispedite Voi cosa fate Andate a posizionare Il campione Utilizzate l'abilità Che tra l'altro Costa poco Costa solo uno Di Elisir Appena L'avversario Vi tirerà Adosso qualcosa Questa cosa Verrà rispedita Indietro All'avversario Se utilizzate Appunto Se colpite Monk Quindi ragazzi Ovviamente Può essere sfruttata Dall'avversario Se tipo C'è questa abilità Gli tirate addosso Una zap L'avversario Prende una zap 50 di danno Che vuoi che siano Però ragazzi State attenti Perché se gli tirate Un razzo Una fireball Qualsiasi cosa E gli diventa Un danno importante Quindi veramente OP questa carta Andiamo avanti Non ci riesce Non ci riesce Altra carta Ragazzi La Fenice La Fenice Altra carta Fortissima Troppo belle Se transizioni Esatto Ragazzi Se voi Andate ad uccidere La Fenice La Fenice Si trasformerà In un uovo Se quell'uovo Non viene spaccato Entro tot di tempo L'uovo Si ritrasformerà In un'altra Fenice Che al suo Che la sua morte Rifarà Spawnare Un altro uovo Che se non verrà Spaccato Farà rispwnare Un'altra Fenice Così all'infinito Ragazzi Quindi dovete stare Attentissimi A distruggere L'uovo Della Fenice Perché altrimenti Vi ritroverete Un sacco di Fenici Addosso Che tra l'altro Non so se notate Ma fanno un bel po' Di danno E anche in combo Col mastino Quindi non male Il tuo mazzo Fa pena Attenzione Altra cosa Molto interessante Non fai altro Che perdere Nuovo generatore Di mazzi Nuova funzionalità Ragazzi Attenzione Che cosa andate a fare Molto semplicemente Andate ad inserire Delle carte Che voi volete Utilizzare all'interno Del vostro mazzo Potete metterne Una Due Tre Quattro Ovviamente Più ne andate a mettere Più il deck Sarà Preciso E una volta Che voi andate a selezionare Quelle carte Cliccate Genera E vi genererà Automaticamente Il gioco Un deck Da utilizzare Con quelle carte In base Al meta Io veramente ragazzi Non ho mai visto Un aggiornamento Così Daily task Non sono missioni Che cosa sono ragazzi Molto semplicemente Eccolo qua Scusate se fermo spesso Ma vi voglio far notare Nei dettagli Tutte le cose Che hanno aggiunto In anteprima Attenzione Ci sono delle sfide Che voi potete andare A completare Che sono molto semplici E al loro completamento Vi andranno a dare O corone O oro O dei punti Per gli standardi Se oltretutto Andate a completare Ogni giorno Una missione Riceverete un bonus Se le andate a completare Almeno una Per ogni giorno Per una settimana intera A fine settimana Riceverete un premio Molto molto succulento Come vedete Un baule d'oro 5 corone 30 punti standardi E 50 punti esperienza Veramente Tanta 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 roba Quindi adesso ragazzi Sono tornate le missioni Ma in un altro modo Quindi non sono più missioni Come erano prima Ma sono delle specie Di quest Molto semplici Che vi permetteranno Di andare a prendere Delle ricompense Seppur minime Comunque molto buone All'interno del gioco E questo vi permette Di Vi da l'incipit Per continuare a Trajardare nel gioco Sempre di più Altre novità Nuovi incariche Delle maestrie Salvadanaio Nuovi artefatti E questo qui ragazzi Attenzione Perché allora Il salvadanaio Non so se si riferisce Al nuovo modo Di salvare Loro a fine stagione Del passo Ma non penso Secondo me è proprio Un salvadanaio Scopriremo più avanti Come funziona Nuove incariche Delle maestrie Quindi probabilmente Ragazzi saranno Gli incarichi mancanti Di probabilmente Quasi tutte le carte A parte una decina Che ci sono adesso Come il log E altre carte Che hanno L'incariche Delle maestrie Complete Perché gli altri Hanno massimo Il livello 7 Se non erro O 6 Non mi ricordo Di preciso Comunque Fatto sta Che adesso ragazzi Probabilmente Arriveranno Tutti gli incarichi Per tutte le carte Quindi molto interessante Il salvadanaio Di cui vi parlavo Nuovi artefatti E questi ragazzi Secondo me Sono dei bauli Che vi vanno a dare Un campione E dei jolly Che vi permettono Di potenziare i campioni Che finora non c'erano Questo baule Sarà tipo Il baule leggendario Quindi anziché Trovare le leggendari Ho trovato i campioni In questo caso Modifiche di bilanciamento Per il cavaliere Il cavaliere È stato baffato I goblin Sono stati modificati Nel loro modo Di utilizzarli Quindi adesso Vedremo un attimo Come saranno modificati E i livelli Che secondo me È la cosa più interessante In assoluto Dell'aggiornamento Attenzione Livelli re e royale I livelli sono cambiati Dal livello 7 al 12 Livello re 42 Da 2 Allora Cosa avete notato Avete notato Che ora Il livello massimo Del re Non è più il 14 Che era difficilissimo Da raggiungere Ma il 42 Il 42 Signori Il 42 Cosa significa questo? Che ora Raggiungere I livelli più alti Sarà molto più semplice Ma soprattutto Che adesso Verrà risurtato La modalità Appunto Dedicata Al cammino Del re Visto che prima Chi era al livello 14 Andava a riscatare Le ricompense E non gliene fregava Più nulla Non era una funzione Molto utile A fin dei conti Se non per riscatare I bauli Adesso ragazzi Ha molto più senso Perché i livelli Sono molti Ma molti di più Sono curioso Di vedere se Come probabilmente Penso che sarà Chi è al livello 14 Che era al livello Massimo A che livello Arriverà Come verranno Convertiti i livelli Sono curioso Perché sono a livello 12 In questo momento Circa a metà Del livello 12 Sono curioso Di vedere In che livello Verrò Convertito E soprattutto Ragazzi Teoricamente Se fanno Come è successo Per il livello 14 Molto probabilmente Vi andranno a dare Delle ricompense Interessanti Come per esempio Dei punti Stella Per tutti i potenziamenti Che avete fatto O forse no Perché in realtà Quello non c'entra niente Le carte Dovrebbero rimanere Solo a livello 14 Ho fatto una supposizione Ma mi sa che è sbagliata In ogni caso Ragazzi Adesso Cos'è Tutto questo aggiornamento Cos'è stato È stato incredibile Perché ora Ragazzi Vi permette Di andare Vi da l'incipit Per tornare a giocare Tantissimo Perché ragazzi Nuovi livelli Fino al 42 Nuove arene Potete arrivare Fino a 7500 coppe Adesso avete la possibilità Salendo di arena Di sbloccare i campioni Così Easy E qui ragazzi Torniamo a un altro discorso Cioè Il cammino del re Adesso Io fino all'arena 18 Probabilmente Non andrò a riscatare Nessun baule Perché dopo Essendo che adesso Non è più Come prima Che al raggiungimento Del livello 14 Potevamo sbloccare i campioni Prima no Quindi l'unico L'unico baule Con i campioni all'interno Era quello Ultimo Del livello 14 Ora ragazzi Essendo che noi Se arriviamo Ad un'arena Arriviamo All'arena 18 Per esempio Non vado a riscattare I bauli Del cammino del re Una volta che arrivo All'arena 18 Posso riscattare Tutti i campioni E quindi cosa vado a fare Ado ad aprire i bauli E nella maggior parte Di casi Spero anzi Di poter trovare I campioni nuovi E poter potenziare Quindi è anche un consiglio Che do a voi ragazzi Aspettate di arrivare Almeno all'arena 16 Poi se fate Ascoltate me Fino all'arena 18 In modo che potete trovare Tutti i campioni E non solo i primi due Ovvero il cavaliere d'orere Degli scheletri E da lì Cosa fate Aprite i bauli E sperate di trovare I campioni Che sicuramente Troverete Molto più facilmente In questa maniera Questo è quanto ragazzi Ci sto due balzecole Ragazzi È incredibile Io vi giuro Non ho mai visto Un aggiornamento Così Incredibile Crash Royale Veramente top Ogni anno Aggiungono delle cose Veramente incredibili Mi dispiace ragazzi Che vi siate persi La mia reazione La mia first reaction Shock Però purtroppo ragazzi Eeeh Ho perso la rec O meglio Non ho perso la rec Ma ho perso l'audio Della rec Quindi non posso farci niente Mi dispiace tanto ragazzi Però così Ho potuto spiegarvi Più nei dettagli Quello che hanno aggiunto Ragazzi Vi ringrazio per aver visto il video Fatemi sapere nei commenti Cosa ne pensate Di questo aggiornamento Io vi giuro Non solo è l'aggiornamento Dell'anno Secondo me Di Crash Royale Ma è l'aggiornamento In assoluto Migliore Che abbiano mai portato Veramente tanta 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 carne al fuoco Che andremo sicuramente A provare prossimamente Nel canale Ragazzi Quindi rimanete sintonizzati Mi raccomando Perché andremo a provare Tutto quanto Ovviamente Se in questi mesi Non sono usciti i video Di Crash Royale Non è che non ci stavo giocando Semplicemente ragazzi Mi sono un po' stoppato Ma ragazzi Ho sempre continuato a giocare Durante questi mesi E continuerò a farlo Perché ragazzi Ora Cioè Ditemi Se non gioco adesso Quando gioco Cioè È il momento migliore Ragazzi Tornate tutti Su Clash Royale Ritorniamo come l'anno scorso Che già erano tutti Che tryhardavano Su Clash Royale Vi prego Ne ho bisogno Perché era incredibile Non so cosa dire Non so cosa dire Veramente un aggiornamento Incredibile Grazie per aver visto il video Ragazzi Fatemi sapere nei commenti Cosa ne pensate Ci vediamo nei prossimi giorni Con nuovi video Sicuramente anche In Flash Royale Iscrivetevi al canale Ti usa la campanella Così vi perderete Tutti i nuovi video Che usciranno in questi giorni Nel canale E vi ricordo Che i miei social Li trovate tutti In descrizione Vi voglio bene ragazzi Grazie per aver visto il video Ci vediamo nei prossimi giorni Con nuovi video Bella ragazzi Ciao